calignaia 18 settembre 2019 bellissima giornata di sole e di mare nella baia di calignaia mare calmo zero meduse acqua calda sembrava di fare un bagno caldo il vento freddo di terra è sparito e quindi di conseguenza più niente tende a ghiacciare l'acqua che pur essendo praticamente al 18 di settembre il mare è sempre molto caldo avendo accumulato tutto il sole di giugno di luglio e di agosto e quindi di conseguenza in acqua si sta davvero molto bene un saluto ciao 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 ciao